e amici sportivi buonasera benvenuti all'appuntamento con il TMV News si parla ancora naturalmente moltissimo di Murigno nuovo allenatore della Roma e ci siamo chiesti quali potranno essere i punti fermi della nuova squadra giallorossa allenata dalla portoghese quali potranno essere anche gli innesti che arriveranno dal mercato. Il punto della situazione con Tommaso Bonan. La notizia di José Murigno alla Roma a partire dalla prossima stagione è una di quelle notizie che catalizza non solo il mondo del calcio in Italia ma in tutto il mondo del pallone in tutto il mondo dello sport se vogliamo essendo Murigno un personaggio a 360 gradi che si è fatto conoscere negli ultimi anni chiaramente la notizia che ha preso un po' alla sprovvista anche gli stessi tifosi giallorossi che soltanto qualche ora prima avevano appreso dell'ufficialità dell'addio di Fonseca e allora con l'arrivo di Murigno ci si chiede adesso Lorenzo come giocherà la Roma chi potranno essere i giocatori da cui ripartirà il club dei Friedkin beh ci sono dei punti fissi dai quali si può ripartire. In tutto il modulo quelle 4-2-3-1 che abbiamo imparato a conoscere anche con l'Inter di Murigno l'Inter del triplete, un modulo che lo stesso tecnico portoghese ha mantenuto anche in tutte le esperienze successive 4-2-3-1 quindi addio alla difesa 3 di Fonseca. In difesa parliamo di giocatori ad esempio giocatori veloci sulle fasce serviranno, si punterà la riconferma di Mancini a centrocampo le riconferme di chi si sta già mettendo in mostra in questa stagione, vere tu su tutti e poi là in avanti molto dipenderà da Dzeko, molto dipenderà anche da come alla fine la Roma finirà questo campionato, se si qualificherà in Champions o meno, capiremo anche il numero di giocatori che servirà. Ad esempio c'è il ruolo di Mkhitaryan che già aveva avuto frizioni con lo stesso Murigno ai tempi del Manchester United e poi si fanno i primi nomi, anche quello di Eric Dier, un giocatore che lo stesso Murigno ha avuto al Tottenham però parlando di certezze una è Niccolò Zaniolo che la Roma non ha avuto quest'anno, che l'Italia non avrà all'europeo ma un giocatore su cui la Roma di Murigno in questo caso punterà in vista della nuova stagione e per gli anni successivi. Nel frattempo però la Roma deve concludere il campionato e deve concludere nel migliore dei modi anche l'avventura in Europa League domani c'è il ritorno contro il Manchester United, l'andata non è andata benissimo, anzi è andata molto male servirà un miracolo sportivo che in questo momento anche vista la situazione di Fonseca non è sicuramente preventivabile, però chissà il mondo del calcio a volte regala anche sorprese. Diamo il benvenuto a Luca Castellazzi, ciao Luca buonasera. Ciao buonasera a tutti. Innanzitutto ti chiedo quali sono le tue sensazioni a proposito del ritorno in Italia di Murigno che guiderà a partire dalla prossima stagione la Roma, tu non lo hai avuto all'Inter come allenatore, però probabilmente a Milano hai respirato ancora l'atmosfera di Murigno. Eh sì, è vero, io sono arrivato proprio nella diciamo nell'estate post triplete e Murigno era ancora diciamo il fautore di una grandissima impresa, quindi l'ambiente Inter lo amava e penso che lo ami ancora adesso, quindi ha lasciato un segno indelebile nel pianeta Inter. Soprattutto per come si percepiva l'allenatore da accettato da tutti, accettato e stimato da tutti, oltre che dai giocatori, dallo staff, da tutta la gente che lavorava alla pinetina, ai dipendenti, quindi questa la conferma che un allenatore è capace di creare un gruppo e soprattutto di farsi voler bene da tutti, questa non è una cosa da poco, quindi è un bel colpo per la Roma obiettivamente, anche inaspettato perché non pensavo potesse nascere una una soluzione del genere. Ecco a questo punto, a tuo parere, con il ritorno di Murigno in Italia si alza anche il livello di competitività del nostro campionato? Sicuramente, è un allenatore di spessore internazionale che ha vinto tanto, è un grande oltre che motivatore anche comunicatore, quindi sicuramente ci sarà, sarà anche interessante ascoltarlo perché non dice mai cose banali, quindi la cosa, la cosa bella è questo. Obiettivamente secondo me è un gran colpo per la Roma perché Roma è una piazza, è una piazza difficile da gestire perché passa da alti e bassi in maniera molto, molto veloce, quindi quindi trovare un allenatore che ha la personalità per gestire un ambiente molto esigente, molto critico, può essere, può essere la scelta, la scelta giusta, poi a livello tecnico la Roma secondo me ha degli ottimi giocatori, quindi trovare magari un condottiero che riesca a dare quella personalità forse in più alla squadra che quest'anno è mancata, parlo di personalità intesa come gruppo, cioè come perché nelle partite importanti la Roma quest'anno ha sempre fatto male, quindi probabilmente manca una, c'è un'identità, una personalità del gruppo squadra. E comunque secondo te in questo momento Mourinho quanto vale come allenatore visto che è reduce da una serie di esoneri? Sì è vero, negli ultimi anni diciamo ci sono state delle battute d'arresto, però è un allenatore d'assoluto valore, io penso che potrà far bene a Roma, è normale che dovrà essere supportato anche dai giocatori, adesso io non so le ambizioni, sicuramente c'è una proprietà molto ambiziosa che riparte come primo tassello dall'allenatore vincente, quindi può essere secondo me il primo passo per per creare, cioè per poi insidiare le 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 prime, cioè le prime posizioni della classifica che negli ultimi anni la Roma ha sempre visto abbastanza lontane. Senti parliamo allora dell'Inter, vanno ancora avanti naturalmente i festeggiamenti, però ci si chiede quale futuro ci sarà per i nerazzurri a partire da Conte, sarà ancora a tuo parere l'allenatore dell'Inter? Io penso di sì, almeno per lo meno spero di sì, da ex giocatore, quindi simpatizzante per tutte le squadre in cui gioco, beh adesso parliamo dell'Inter quindi sono contento, cioè obiettivamente che l'Inter abbia vinto lo Scudetto, è stata una marcia trionfale nelle ultime settimane, cioè ha trovato veramente una continuità di risultati che ci fa dire che ha meritato ampiamente lo Scudetto. Conte è stato determinante secondo me in questa vittoria dello Scudetto, di conseguenza penso che sia il primo tassello da tenere. Allora, i toni delle parole non mi sembrano tanto lontani, l'anno scorso dopo la finale d'Europa League magari avevo più dubbi che potesse rimanere perché sembrava che le parti fossero lontane, adesso secondo me si godono la vittoria, però poi avranno modo di programmare, penso che il nodo sarà anche le ambizioni da parte della società e soprattutto secondo me il riuscire a tenere tutti i pezzi pregiati perché sappiamo tutti che per tutte le squadre non sarà un mercato di grandissime spese, quindi già, secondo me sono già, come dire, già un grande risultato mantenere i top player che hai. Ecco, tra gli acquisti che hai mente l'Inter c'è anche quello di un portiere, un portiere che dovrebbe essere almeno inizialmente un vice Andanovic che poi possa diventare il titolare del futuro. Tra i vari nomi che vengono fatti qual è il tuo preferito? A me piacciono due, vabbè, Mussol non mi è più gettonato perché è già un portiere già formato, è già in un'età media intorno ai 26 anni, di conseguenza ha già un'esperienza di Serie A perché è all'Udinese già qualche anno che gioca ed è migliorato molto, è un portiere costante nel redimento, potente, quindi è un portiere che sicuramente può essere, far parte di una squadra top in Italia. A me piace tanto anche Mere che nonostante si senta il nome da diversi anni è pur sempre un 97, quindi ancora giovane. A Napoli adesso sta giocando con più continuità anche perché Ospina ha avuto dei problemi fisici. Anche secondo me lui è un portiere di grande prospettiva, è normale che stiamo parlando di andare a acquistare due portieri in due realtà che sono l'Udinese, diciamo i pezzi pregiati non li regala mai. Il Napoli invece è una diretta concorrente dell'Inter, quindi bisognerà vedere se ha l'intenzione di privarsi di un pezzo importante. È vero che quest'anno Mere è stato alternato tanto con Ospina, però secondo me è un portiere che ti può garantire anche continuità nel corso del tempo perché essendo così giovane puoi avere il portiere per i prossimi dieci anni. Ecco, Mere, ti sembra anche un portiere di personalità perché si è discusso molto anche intorno proprio a questo particolare? Allora, sicuramente sta migliorando, sta migliorando le personalità, intendo anche il modo di interpretare il ruolo. Adesso il portiere lì si chiede di essere molto partecipe, molto attivo anche allo sviluppo della manovra, alla costruzione del gioco. Di conseguenza penso che rispetto all'anno scorso sia migliorato sotto questo aspetto, quindi lo vedo anche più sicuro nel gioco con i piedi, cosa che magari l'anno scorso aveva costretto Gattuso a scegliere Ospina che sembrava più adatto a questo tipo di gioco. Secondo me è migliorato tanto, può migliorare ancora. Vediamo Andanovic quanto si è migliorato, quanto interpreti in maniera moderna il ruolo in questo momento. Di conseguenza può essere, secondo me, a livello tecnico anche uno dei portieri più formati, cioè più completi sotto questo punto di vista. Se dovesse fare il salto, anche a livello di personalità, essere ancora più protagonista, secondo me si può ambire veramente a squadre a vincere campionato e coppe, ecco, quindi proprio a diventare un portiere di... è già un portiere nazionale, quindi stiamo già parlando di portiere di fatti e finiti, però anche l'Italia gli permette di avere ampie prospettive. Una considerazione anche sul Torino, che dopo la vittoria con il Parma sembra avere un piede e mezzo ancora in Serie A, nel senso che comunque la salvezza sembra più vicina adesso. Sì, sì, il Toro penso che sicuramente dovrà gestire l'ultima partita con grande intelligenza e con grande... cioè cercando sempre di fare risultato, però la vittoria col Parma gli ha permesso di creare quel mini cuscinetto che di sti tempi avere tre punti in più non è da poco, ecco, le partite sono poche, ci sono anche degli scontri diretti, domenica secondo me il crocevia della salvezza è Benevento Cagliari, perché alla fine è uno spareggio quasi, di conseguenza il Toro con la vittoria di lunedì si è messo, secondo me non si è ancora salvato, però si è messo in una posizione molto, molto vantaggiosa per raggiungere un obiettivo che obiettivamente, scusami il gioco di parole, era... cioè... Ci sono stati... È diventato difficile ad un certo punto. Ci sono stati dei momenti dove anch'io vedendo le partite si vedeva che la squadra faceva fatica, faceva fatica a segnare, subiva sempre, aveva quasi una difficoltà anche a livello psicologico, era molto... appena prendeva gol si scioglieva, di conseguenza ho temuto il peggio, invece fortunatamente per il Toro si è... ha ritrovato la retta via. Luca è sempre un piacere parlare con te, grazie del tuo contributo. Grazie a voi, ciao, ciao Lorenzo, buonasera a tutti. Ciao, ciao. Bene, voltiamo pagina ed occupiamoci adesso della lotta Champions, molto interessante, partiamo dall'Atalanta che se la vedrà nel prossimo turno di campionato con il Parma, un turno sulla carta agevole considerato che la formazione di D'Aversa è già retrocessa in Serie B. Come si sta preparando l'Atalanta a questo appuntamento? Lo chiediamo a Patria Chianarelli. Sarà una sfida complicata nonostante i valori in campo, l'Atalanta e Giampiero Gasperini sfiderà il Parma nel prossimo turno di Serie A, i nerazzurri sono reduci dal pareggio contro il Sassuolo, un pareggio che lascia un pochino la mare in bocca perché comunque Muriel ha sbagliato il rigore decisivo nel secondo tempo, c'è stato il rosso a golini, qualche voce di troppo anche sul mercato visto che Giampiero Gasperini è stato accostato al Tottenham, gli Spurs hanno cercato di convincere il tecnico Atalantino ma al momento Gasperini rimane a Bergamo perché ha il contratto fino al 2023 con l'opzione sul rinnovo fino al 2024 che verrà esercitato sicuramente dalla famiglia per Cassi. Voci di mercato a parte, bisognerà pensare al campo, non sarà una gara semplice perché il Parma comunque arriva da un momento delicatissimo, è stata appena retrocesso in maniera matematica però bisogna ritrovare i tre punti anche perché l'obiettivo prima della finale Coppa Italia è uno soltanto, qualificarsi in Champions League. Salutiamo adesso Alessandro Pirindelli, ciao Alessandro buonasera. Ciao, buonasera a tutti, ciao. Prima di tutto da ex empolese voglio sentire un tuo commento a proposito della promozione della squadra toscana in Serie A, Empoli guidato peraltro da un tecnico molto interessante come Dionisi. Sì, innanzitutto sono strafelice perché io sono cresciuto in quella società, mi ha dato la possibilità di crescere come ragazzo, come uomo e mi ha dato anche poi la possibilità di affacciarmi a parcoscenici importanti, quindi io devo ringraziare Fabrizio Corsi e tutto Empoli per la vicinanza e l'attaccamento che ho sempre, l'affetto che mi hanno sempre trasmesso. Per quanto riguarda la vittoria penso sia strameritata la vittoria e al di là di questo lavoro e programmazione sono quelle cose che ti danno garanzie, ecco, ti danno quell'equilibrio quella stabilità che senza programmazione molto probabilmente non avresti. Per quanto riguarda Dionisi io penso che non è da oggi che questo allenatore giovane abbia dimostrato le proprie qualità, anche a Venezia ha fatto benissimo, quest'anno la scelta coraggiosa di Fabrizio e la società, il direttore, di andare su lui, hanno previato, ma questa è una società, l'unice mirante, come dicevo prima, da Empoli sono passati tecnici importanti, da Villolina a Spalletti a Sarri, quindi ecco, merito, merito alla società, a tutti quelli che collaborano insieme al Presidente, il settore giovanile riconosciuto insieme a quello dell'Atalanta e ad altri di altissimo livello e questi sono i risultati. Parlando invece della lotta Champions, che è molto interessante, domenica sera ci sarà Juventus-Milan, è una partita decisiva per entrambe le squadre, che ne pensi? Io penso proprio di sì, o per un motivo o per un altro, le due squadre si sono trovate a lottare per la Champions-Milan, sembrava dovesse scappare a un certo punto in campionato, in vetta, invece poi è accusato un po' di fatica dovuta dagli strascichi delle qualificazioni all'Europa League, quindi stagione un po' lunga, poi falcidiata anche da qualche infortunio importante e invece la Juventus, campionata al Tarnante, gli è mancata la continuità e adesso ha l'opportunità però di rimediare portando a casa un posto Champions che, ripeto, sarebbe fondamentale quest'anno, altrimenti si parlerebbe di un fallimento. Eh sì, insomma anche Pirlo naturalmente poi difficilmente potrebbe essere confermato senza la Champions. Ma secondo me credo sia improbabile una non qualificazione rivedere Pirlo allenatore, a meno che poi la società non abbia messo in preventivo anche questo all'inizio anno scorso, all'inizio anno calcistico, ma una società che viene da nove anni di successi, ritrovarsi senza neanche un posto in Champions, ma molto probabilmente allora sarebbe da farsi una domanda, forse non cambia l'allenatore ma cambia qualcuno più alto. Eh sì. Vedremo allora, grazie ad Alessandro Birindelli, buon proseguimento di serata. Grazie, anche a voi. A proposito di Juventus Milan, occorre puntare l'attenzione anche sul caso Donnarumma, Donnarumma che interessa molti club, tra questi anche quello bianconero, dunque il portiere sta vivendo una situazione delicata per il suo futuro. Su questa vicenda abbiamo voluto sentire il parere di Furio Valcareggi, agente particolarmente esperto. Vedi Donnarumma perché vedi è facile dal di fuori dire, fare. Raiola è bravo, perché Raiola è molto bravo, perché non si diventa così ricchi e famosi ed essere scarsi. Però la forza di Raiola è che ha giocatori incredibilmente forti. Lui è due anni che è stato per due volte a scadenza con il Milan. Non è un bel messaggio questo, però Paolo Maldini che è bravo a fare il dirigente e come a giocare quasi, perché anche quello è un altro mestiere, cercherà di fare, ma è certo che gli costa, perché di Donnarumma il Milan chiede sui 100 milioni di Euro, più o meno, e quindi bisogna riconoscere a Donnarumma il 10, il 15, il 20, quindi è uno stipendio costosissimo, però è Donnarumma, è un 99, c'è già 200 partite in Serie A, dov'è? C'è il miglior portiere del mondo, punto, o fra i cinque migliori portieri al mondo, è ovvio che debba guadagnare quei soldi lì. Secondo te cambia qualcosa un ingaggio da 8 milioni o da 12? Sai, voglio dire, se tu mi valuti 100 milioni di Euro, il mio cartolino costa 100 milioni di Euro, bisogna tu me li dia a me 12 milioni l'anno, bisogna tu me li dia, che se tu mi vendi pigli più di 100 milioni. Ora bisogna vedere magari se con il mercato condizionato dal Covid 100 milioni si possono avere? Guarda che i ricchi ci sono sempre, non ti sbagliare, ma i poveri di più ma ricchi, non hai paura e loro ci sono, non ave paura che loro ci sono, Donnarumma c'è due o tre grandi squadre che hanno problemi in porta, è chi il meglio di Donnarumma, è alle lusinghe, quindi va capito il ragazzo, io capisco i milanisti, il sangue milanista, capisco tutto, però se io fossi procuratore di Donnarumma vorrei che rimanesse al Milan, ma ecco con uno stipendio pazzesco, pazzesco. Bene dunque siamo ai saluti per questa edizione del TMV News, ci ritroveremo domani per affrontare tanti altri temi, non mancate, grazie a tutti per averci seguito, buon proseguimento di serata. Grazie.